Giudici, funzionari, commercialisti e imprenditori. Sono sette le persone arrestate oggi nel prosieguo delle indagini della Commissione Tributaria di Salerno, avviate lo scorso 15 maggio, quando in manette finirono 14 persone. La Guardia di Finanza, su ordine della Procura della Repubblica di Salerno, ha eseguito oggi le ulteriori ordinanze. L'accusa per tutti è di corruzione in atti giudiziari. Fondamentali proprio le informazioni ricevute dai precedenti indagati, finiti in manette, che durante gli interrogatori avrebbero ammesso le proprie responsabilità e fornito notizie su altri indagati e altre sentenze. I riscontri avrebbero così permesso di risalire ad altri 10 episodi, sentenze di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale, sezione di staccata di Salerno, che sarebbero state pilotate a favore di privati in cambio di denaro. Grazie alle nuove indagini salirebbero dunque a 20 il numero di provvedimento di secondo gradi fasullo. Il risultato è sempre stato quello di far vincere il ricorso al contribuente in cambio di soldi. Tra i capi di accusa provvisori, per i quali il GIP ha ravvisato la presenza di gravi indizi di colpevolezza, c'è la cancellazione di un debito con l'orario di oltre 35 milioni di euro per una società di Sarno, per un'altra società di Angri l'indebito vantaggio supererebbe 5 milioni di euro e poi una terza società di Avellino. La somma contestata dal fisco e annullata dai giudici raggiungerebbe quasi il milione di euro. Tra gli indagati un professionista di Avellino che dopo aver ricoperto per anni l'incarico di giudice tributario a Salerno da settembre del 2018 fa parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il massimo organismo di autogoverno dei giudici tributari a livello nazionale. Ma tra gli arrestati vi sono anche un giudice tributario non togato, un segretario della Commissione Tributaria Provinciale, un produttore televisivo della Vellinese, altri quattro tra imprenditori e commercialisti della provincia.